Siamo qui al Ristorante La Cubana con Alfonso che ci parla della sua attività. Ristorante Ristorazione, Trattoria Cubana di Marina di Ravenna che è un'eccellenza sulle spiagge del Ravennate. Noi ci conosciamo come a D&S2T perché abbiamo avuto modo di collaborare insieme. Sono contento di questo, di quello che ho deciso di fare, che mettendo su questi bei pannelli sonorizzati ho fatto in modo che la gente seduta a tavola stasse da Dio, non più quel rumore, quel fracasso che c'era prima. Questo è un lavoro da fare e lo consiglio a tutti. Grazie. Come si è trovato durante questo lavoro, collaborazione che abbiamo fatto insieme? Io direi perfetto, nessun problema. Infatti penso che sia anche per questo, perché avete trovato dei risultati, che avete deciso di ampliare l'investimento che avete fatto inizialmente e anche nell'altra parte del... Beh certo, certo. Poi di là è la zona più chiassosa dove vengono le famiglie a mangiare il pesce a cartoccia, quindi bambini, qualche cagnolino, questo e quello, facendo in questo modo anche lì abbiamo molto attutito il rumore. Ecco. Quindi è sicuramente una soddisfazione il fatto di dare questi valori. È una cosa indescrivibile come soddisfazione, perché prima era invivibile, adesso invece andiamo da Dio. Le persone sono più a suo agio. Sì, sì. Sicuramente l'ottimo cibo è... Sì, sì, ma anche dove stai, se puoi stare in pace in mezzo alla gente, che non ci sono più quelle confusione e va benissimo, ecco. Grazie mille. Prego, prego. Grazie mille. 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 Grazie mille.